Nei giorni scorsi l'Aggiunta regionale ha deliberato la gestazione il 31 gennaio delle funzioni per 5 uffici speciali regionali temporanei. Un termine anticipato rispetto alle scadenze stabilite e che riguarda gli uffici, progettazione le cui competenze transiteranno al Dipartimento regionale tecnico, si legge nel comunicato. Recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti, Ufficio Legislativo e Legale della Regione, Immigrazione e Dipartimento della Famiglia, Comunicazione per la Salute e Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, DASOE. Qualche mese in più invece per l'Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e per lo stralcio dei pregressi interventi prof e oif, che potrà rimanere in funzione fino al 31 dicembre, così da completare le certificazioni di spesa degli interventi a valere sul POFESRE 2014-2020, dopodiché transiterà al Dipartimento dell'Istruzione. Una decisione presa su proposta del Governatore Renato Schifani nell'ottica della razionalizzazione prevista dalla legge regionale numero 10 del 2000 e del contenimento delle spese. Così come già annunciato, affermato il Presidente della Regione, riorganizziamo la macchina dell'amministrazione regionale. Il personale dei disciolti uffici speciali andrà a potenziare i dipartimenti nei quali è necessario rinforzare gli organici. Verranno riorganizzati in seguito, attraverso un apposito disegno di legge che sarà predisposto dall'assessore all'economia, si precisa ancora nel comunicato, anche liquidazione centrale unica di committenza, che al momento però proseguono la loro attività. Intanto sono stati nominati anche tre dirigenti generali di seconda fascia, Alberto Pulizzi, che rimarrà al Dipartimento regionale della Pesca, Antonio Cono Catrini al Dipartimento Turismo e Donata Giunta al Dipartimento degli Affari Extra-Regionali. Mentre non si è potuto procedere alla nomina di un quarto dirigente di seconda fascia, si legge ancora nel comunicato stampa, in quanto ormai prossimo alla pensione. Prosegue in questo modo, ha detto il Presidente della Regione, Renato Schifani, la riorganizzazione della macchina burocratica, che è la condizione essenziale per un funzionamento più snello ed efficiente dell'amministrazione regionale. Contiamo di completare il quadro delle nomine in breve tempo, affinché ogni dipartimento abbia un assetto definitivo.